bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi si parla ovviamente dell'evento della stagione ormai mancano tre giorni e ieri abbiamo scaricato tutti la patch 12.61 che nonostante fosse abbastanza leggera ci aspettavamo qualcosa di più nascondeva al suo interno un sacco di robe interessanti appunto riguardanti il futuro di fortnite tanti video tante news in questo video ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo dentro direttamente nel primo argomento di oggi ovviamente si parte con qualcosa di molto soft una bellissima immagine della schermata di caricamento che vi ricordo è in regalo nello shop ieri pomeriggio cambia alle non so alle 16 credo lo shop è stato modificato inserendo la skin appunto presente in questa schermata di caricamento ombra rinnegata una skin che fa molto scalpore perché innanzitutto la vediamo in queste immagini combattere proprio contro l'agenzia si dice che sia proprio il prigioniero quello che scappa dallo squalo e molto probabilmente sarà anche la skin che combatterà sarà l'antagonista di mida nel cercare appunto di fermare il suo piano diabolico del doomsday event ricordo anche che ci sono le nuove sfide già disponibili che vi regaleranno ben tre oggetti tanta tanta roba ragazzi il deltaplano il piccone e la copertura sempre dedicata appunto a ombra rinnegata quindi un ringraziamento è dovuto ad epic games per farci questi tre regali meravigliosi senza chiedere niente in cambio e come vi anticipavo nello shop troverete anche a costo zero la schermata di caricamento che però dovrete regalare e ricevere il regalo appunto per essere ottenuta e andiamo avanti intanto a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio dirvi innanzitutto una cosa ve l'ho già detto nel video di ieri ve lo ripeto anche nel video di oggi non voglio spoilerare nessun video nessuna immagine importante e nessun file audio nei miei video news anche io voglio che per quanto possibile il segreto e l'hype dell'evento di questa season rimanga per tutti noi mi dispiace io me lo brucerò perché devo guardare le news ma a voi invece lo voglio riservare quindi vi faccio vedere certe cose che neanche io capisco che cavolo siano mentre parliamo dell'evento questo pistolotto qua ragazzi col pallino viola alla parte alta farà parte di questo evento e se andiamo a leggere direttamente nei file di gioco c'è scritto doomsday device tentacle bp 12 doomsday device è la sfera ragazzi anzi voglio un attimino visto che qua è menzionata la sfera del doomsday device volevo ricordarvi e farvi vedere prima di farvi vedere alcune immagini che innanzitutto siamo arrivati allo stage finale della sfera quindi se in game entrate nella sezione di mida come vedete dietro di lui appunto la sfera il doomsday device appunto ha raggiunto la sua massima potenza di energia e tra l'altro questa sfera di energia ha fatto dei cambiamenti notevoli mappa intanto rifacciamoci tutti un attimo gli occhi con questi quattro screen meravigliosi che sono stati presi appunto dall'evento finale attuale del doomsday device guardate che meraviglia questo gioco di colori lo andiamo a vedere anche in un'altra inquadratura e andiamo sempre più vicino per vedere proprio il nucleo centrale il fulcro della tempesta probabilmente il pistolotto potrebbe essere uno di questi tentacoli che appunto alimenta la sfera e l'ultima immagine è proprio uno zoom sul nocciolo della sfera appunto la tempesta che viene manipolata direttamente da mida ma la tempesta che viene manipolata da mida potrebbe anche essere la causa di un fatto molto curioso che tutti stiamo riscontrando nelle nostre partite di fortnite in queste ore ovvero sia degli stranissimi cerchi della tempesta quando iniziamo le nostre partite questo è semplicemente un esempio che cosa succede innanzitutto ci sono tipo 6 minuti di tempo tra il minuto che scade dopo che siamo atterrati e il secondo cerchio della tempesta quindi un lasso di tempo veramente enorme che riscontrando nelle ultime partite decima pesantemente tutti i giocatori il che vuol dire che arrivi che mancano 4 safe se hai dentro in 10 e se li accorre come hai di mezzo ai prati e non sai dove è la gente il secondo discorso invece è che potrebbe invece non essere un bug ma appunto essere la doomsday stessa quindi la sfera stessa a modificare questi cerchi della tempesta che alcune volte sono davvero molto bizzarri fateci caso perché meritano di essere visti e parlando allora appunto di tempesta voglio farvi vedere un altro spezzone interessante una skin che avete sicuramente visto e che vi ho proposto anche nel mio video news di ieri mattina qualche secondo lo dedichiamo appunto a Cyclo la skin che arriverà probabilmente in concomitanza questo sabato con l'evento che non è altro che mida che indossa l'armatura l'armatura che abbiamo visto più volte sparsa sia nella sua parte di agenzia sia al pozzo perché se siete stati attenti avrete notato che è presente anche nel pozzo quindi una nuova skin leggendare in arrivo sapete che non ne rilasciano mai tantissime completa di mantello quindi di backpack tanta tanta roba e voglio farvi vedere un altro spezzone perché ragazzi è praticamente confermato che nella season 3 si andrà sott'acqua questo che state vedendo ragazzi è praticamente l'effetto che succederà ai personaggi mentre sono nell'acqua e notiamo che ci sono dei movimenti che in questa season non esistono come vedete questo personaggio è palesemente in questo momento al bordo dell'acqua ma può nuotare avanti indietro a destra a sinistra e immergersi il fatto appunto di immergersi come stiamo vedendo proprio in questo momento potrebbe confermare il discorso che parte della mappa sprofonderà proprio sommersa dalle acque c'è da dire anche che in alcune location della mappa come ad esempio fattoria o come ad esempio moli molesti si nota un livello dell'acqua innalzato il che appunto contribuisce a confermare queste ipotesi staremo a vedere come già vi avevo detto nei video precedenti si parla della season 3 con il fuoco e l'acqua come protagonisti quindi due elementi importanti che potrebbero appunto essere contrapposti uno con l'altro e chissà che cosa succederà ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi guardate un pochettino che cosa è stato trovato nei file di gioco e adesso tu mi dici xiu e cavolo mi stai facendo dei coriandoli no ragazzi notate che ultimamente c'è un nuovo metodo dei leakers per scoprire cose che staranno per arrivare ora io non so se siano criptate queste immagini direttamente dai pgames o semplicemente sia appunto un nuovo metodo ma se noi andiamo a vedere soprattutto l'immagine là sotto notiamo una figura femminile e quello che è stato trovato non è altro che la sagoma della skin engineer che continua prepotentemente a farsi strada in questi ultimi giorni della season 2 e ovviamente che ci porterà alla stagione 3 vi ricordo un briefing super veloce che engineer quindi questa skin potrebbe essere la compagna di mida tra l'altro se noi andiamo a vedere la schermata la loading screen della nuova ltm dove c'è proprio mida che tocca il vetro con la sua arma noterete che nella vetrata c'è proprio il riflesso di una figura femminile e potrebbe assolutamente essere lei anche perché sappiamo che proprio sulla scrivania di mida è presente un portafoto con la sua foto e lei stessa appare in un quadro a corso commercio insieme a brutus quindi la skin non è ancora presente virtualmente in game ma si continua a menzionare potrebbe davvero essere qualcosa che c'entrerà con la storyline della stagione 3 o addirittura con la chiusura della season 2 insomma ragazzi anche per oggi tantissime novità su quello che riguarda il futuro di fortnite io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao